...delle aliquote dell'IVA, l'articolo 16, si si prego Vlad Allora voi dovreste leggere un libro bellissimo che si chiama, ve lo consiglio, anzi fatevelo regalare a Pernantale perché costa un po' e quindi è meglio che ve lo regali qualcun altro ma i libri sono una risorsa importante, io guardate ho fatto come formazione dopo ragioneria ho fatto legislazione di impresa alla Bocconi con tutti i libri di economia e di diritto che ho letto, uno dei libri più interessanti l'ho comprato da Autogrill e si chiama Audaci visionari di Rice Miller, questo libro di cui non ne conoscevo l'esistenza ha un sottotitolo che è se qualcuno vi dice che è una cosa impossibile, se qualcuno ti dice che è una cosa impossibile falla comunque allora il primo segreto è dentro te stesso dovete provarci ragazzi, se non ci provate voi, che professionalmente avete poco da perdere dovete accorrenziare che da un punto di vista del mercato non c'è mercato migliore per iniziare a provare a mettere in gioco le proprie abilità che un mercato ingeneroso quando il mercato è generoso e florido si buttano tutti nel mercato invece soltanto i migliori resistono a momenti del mercato difficili se la tua domanda era mirata a dire che tipo di contributi ci danno vai in banca e ti sbattono una porta in faccia vai a vedere se danno i contributi all'imprenditoria giovanile sono riservati soltanto al mezzogiorno vai al sud d'Italia perché sono riservate economicamente depresse sono fortunate le ragazze perché qualche volta c'è qualche incentivo all'imprenditoria femminile è anche vero che qualche volta c'è qualche incentivo anche all'imprenditoria giovanile però noi siamo purtroppo e per fortuna in un territorio considerato economicamente fertile nonostante la crisi e quindi quando vengono stanziati questi contributi sono sempre troppo pochi o troppo selettivi la vostra professoressa dice una cosa che io condivido appieno non tutte le attività economiche richiedono un investimento iniziale necessariamente alto e la vostra attività quella di tipo consulenziale oppure guardate all'inizio sarete in grado però sarete in grado di fare assistenza contabile c'è uno specifico codice Ateco che i diplomati nella vostra attività iscritti ad una situazione professionale possono aprire associati a una partita IVA ad esempio come contribuenti minimi e proporsi presso gli studi di consulenti fiscali qualunque tipo di consulente fiscale o presso le aziende per fare le registrazioni contabili che sono quelle che ho imparato a scuola e di quelle che studiate se non ha cambiato il programma di ragioneria dalla terza superiore in avanti non la partita doppia allora voi questo già lo potete vedere in pratica rischiando poco anzi vi dirò di più come diceva Oscar prima magari potrebbe essere l'opportunità per entrare in un contenitore l'azietta in un contenitore lo studio e poi essere ritenuti validi e vi viene proposto di essere assunti però intanto lo fate provando con un'esperienza di libera professione deve arrivare da voi deve arrivare un po' della passione anche per la materia che fate la passione per il fatto che operate in un settore di cui domanda ce n'è sempre e per il fatto che fare questo magari in parallelo agli studi vi consente con tutto il rispetto per il lavoro perché qualunque forma di lavoro è nobile ma di non fare magari di non arrotondare magari durante gli studi superiori andando a fare il cameriere o la cameriere al bar come avviene no? molti studenti lo fanno al pony express ma cominciare a mettere in pratica le vostre competenze e cominciare a guadagnare magari non tanto ma già da subito e quindi voi avete un doppio beneficio guadagnate e imparate on the job